Questo è il primo documento dell'amministrazione di piazza, perché sappiamo che da un anno ad oggi, da quando si è insediata l'amministrazione di piazza, di documenti ne sono stati portati pochi in aula se non il famoso regolamento della polizia del vice sindaco Roberti e questa è certamente la prova del nove di quella che è la tenuta dell'amministrazione, di quello che vuole fare l'amministrazione per questa città. Sappiamo che con il bilancio un'amministrazione si presenta, perché con il bilancio l'amministrazione fa le previsioni di spesa e quindi degli investimenti che vuole fare per la città, quindi si esprime in una direzione piuttosto che in un'altra, ovvero con il bilancio l'amministrazione si caratterizza per quelle che sono le sue scelte più importanti e ad oggi, dopo un anno dall'elezione, il sindaco di piazza e la sua giunta sembra che questo non l'abbia ancora fatto e non sia in grado di farlo.